Tutti pronti a combattere perché il posto di polizia diventi stabile e non più solo estivo. Parola di sindaco, commercianti ed associazioni, tutti pronti a combattere perché il distaccamento diventi permanente. Attualmente infatti 8 auto e circa 20 agenti si muovono fra Martinsicuro e Giulianova in supporto all'emergenza terremotati. E la percezione di sicurezza è cresciuta a dismisura nella città troentina, grazie ai numerosi controlli ed arresti che sono stati compiuti alla luce del sole. Alcuni anche in piazza Cavour, sotto gli occhi soddisfatti dei negozianti. E mentre gli stessi commercianti annunciano una colletta per contribuire alle spese aggiuntive dovute all'arrivo del distaccamento in città, la Proloco si dice pronta ad avviare una raccolta di firme da inoltrare al ministro Maroni per evitare lo smantellamento in inverno del presidio e più in generale la diminuzione delle forze dell'ordine dispiegate sul territorio. Noi anche come Proloco siamo favorevoli a una raccolta di firme, una petizione. Ma lo stesso Clementoni nelle vesti di semplice cittadino si impegna a fare di più. Come cittadino posso dire questo, che la mia famiglia mette a disposizione del distaccamento di polizia ove questo divenga permanente, perlomeno dando i locali gratuitamente per almeno un anno.